Tanti studenti e cittadini hanno preso parte questa mattina alla marcia popolare Io non ci sto che ha sfilato nel quartiere di San Giovanni a Teduccio contro i recenti episodi di criminalità. L'iniziativa che ha visto la partecipazione del sindaco Luigi De Magistris è quest'anno alla sua seconda edizione e vuole tenere alta l'attenzione per quei luoghi che maggiormente soffrono di degrado e abbandono. Noi ci siamo sempre, anche la magistratura e le forze di polizia hanno dato una risposta importante sui presunti mandanti ed esecutori dell'agguato fatto a Rione Villa davanti alla scuola qualche settimana fa. La città è presente, lavora per un grande riscatto civile e culturale, i napoletani non si stanno girando dall'altra parte, lo state vedendo in questi giorni, qua stanno tantissimi bambini, tantissimi ragazzi, la scuola è fondamentale. Voglio ringraziare molto le insegnanti della nostra città perché fanno davvero un lavoro straordinario. La videosorveglianza che loro chiedono e si sta tenendo? È aumentata molto, è aumentata molto, il lavoro importante che si fa a governo, regione e comune sulla videosorveglianza saranno i suoi frutti. Anche diversi arresti che si stanno facendo in città negli ultimi tempi sono anche frutto della videosorveglianza più massiccia nella nostra città. Questo è il grido di dolore che si comprende quando succedono fatti gravi, ma i fatti dimostrano, almeno se parliamo di Luigi De Magistris e il comune, c'è una presenza massiccia da molti anni. Da parte nostra ci sarà sempre nei momenti belli, nei momenti difficili, con la solidarietà umana, con le azioni concrete, con le azioni di riqualificazione e con un lavoro di rete. Anche quando veniamo lasciati soli da chi ci dovrebbe sostenere economicamente, qui non c'è abbandono. Grazie a tutti.